Il mio nome è Giulia Maria Rossi, sono nata e cresciuta a Venezia. All'età di 15 anni sono andata a studiare all'estero per avere un diploma universitario in management internazionale. Poi sono tornata a Venezia a vivere e adesso sono qua e spero di restare per il futuro migliore per Venezia. Non pensavo di trovare il mio posto in questa città, essendo molto piccola, e invece ho trovato il mio posto nell'arte. Molti dei miei amici mi hanno consigliato di andarmene e di fare esperienze all'estero e per poi tornare e magari applicare. Invece trovo che Venezia sia il posto perfetto sia per fare le giuste conoscenze nell'arte che avere opportunità di crescita e potersi esprimere in una maniera molto più libera che in qualsiasi altra città. Venezia offre molto, offre molto per i giovani e i giovani devono tornare a Venezia a vivere per i loro progetti anche. Un cambiamento a Venezia l'importante è il ritorno, il ritorno dei giovani e il ritorno delle persone in generale. Le cose si costruiscono insieme, non da soli, dunque ci vuole un cambiamento nella comunicazione tra generazioni, nella comunicazione e nel pensiero delle persone a riguardo nella politica. Non possiamo aspettare che i politici facciano questi cambiamenti e che ci diano e regalino una Venezia nuova e cambiata senza che noi prendiamo personalmente posizione e con i nostri nuovi progetti contribuiamo a un cambiamento positivo per la città, che è possibile e si può applicare. Io personalmente ho creato e fondato la mia associazione culturale con fine di aiutare i giovani artisti di Venezia e una volta che loro escono e si laureano dal loro percorso informativo verranno esposti, io li aiuterò attraverso delle piattaforme online e offline a promuoversi e a aumentare la loro visibilità al pubblico. Ecco, come vedo questo futuro? È un sogno che ho, è un sogno che vorrei riuscire a fare, a vivere, per poter creare una nuova comunità di artisti a Venezia, dove tutti si rincontrano in un posto, scambiano le idee, scambiano le informazioni e creano cose nuove, creative, con una energia nuova. Venezia per me è casa e Venezia per me è amore.